La campagna si è sempre contraddistinta per avere un atteggiamento prudenziale, questo devo dire alla fine è appagato perché noi abbiamo avuto un impatto importante, la pandemia abbiamo detto, quello che mi auguro è che come sta avvenendo che questa pandemia scemi molto rapidamente e quindi avere una settimana in più o in meno di mascherine all'aperto è un atto di prudenza, poi l'importante è che tra qualche settimana potremmo dire che oramai la pandemia si è sostanzialmente esaurita e pensare allo sviluppo, alla crescita, a un'estate fatta di una nuova socialità, mantenendo sempre però la prudenza perché la prudenza ci aiuta a vivere meglio il futuro.